Ciao a tutti amici da Ximardora.com e ben ritornati ad un nuovo video unboxing. Questa oggi andremo ad analizzare il Thermalright True Spirit 140 Power che si differenzia dalla versione normale per la colorazione nera e argento. Come possiamo vedere la confezione riporta varie immagini illustrative, le specifiche tecniche, le caratteristiche tecniche e così via. Procediamo dunque all'unboxing del prodotto. Una volta estratto dalla confezione, troveremo all'interno, andiamo con ordine, un manuale per l'installazione, una ventola da 140 mm con attacco 4 pin PWM, il cavo è rivestito in treccia di tessuto. Questo ci permetterà di variare i giri della ventola da 900 fino ad un massimo di 1300 rpm in base alle temperature raggiunte. Inoltre è presente una piccola confezione di cartone, al cui interno troviamo tutte le viti, i back blade, le staffe, che ci serviranno a montare il dissipatore sui vari socket. Il Thermalright True Spirit 140 Power è compatibile con gli ultimi socket della Intel, quali gli 1150, il 55 e il 2011, e gli AMD, M2+, M3 e così via. Procediamo dunque all'analisi del dissipatore. Come possiamo vedere la base è completamente lappata a specchio, la late pipe e la base di contatto sono in rame nichelato, come possiamo vedere, mentre la struttura è dotata di alette molto fitte che permetteranno un maggiore scambio termico, e nella parte superiore troviamo un plate di colore nero in alluminio, che conferisce comunque un aspetto più elegante ed gradevole al dissipatore stesso. Le dimensioni sono di 154 per un'altezza di 171 mm ed un peso di circa 800 grammi. Il dissipatore appartiene alla categoria dei dissipatori a torre e vedremo ulteriori immagini e la recensione scritta completa sul nostro sito www.ximardware.com Un saluto a tollo staff. Grazie. 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 Grazie.